BEST IN SHOW Abbiamo quindi il vincitore dell'esposizione di Piacenza e Parma, il Maltese e il vincitore dell'esposizione di Reggio Emilia il Samoyedo Total White per questa finalissima Grazie a tutti Samoyedo Grazie a tutti Grazie a tutti. Il Samo Iedo si aggiudica al titolo di Supreme Best in Show. Invito per la premiazione Fausto Mattioli e Antonella della Taco Boutique per il premio speciale al Supreme Best in Show. Ancora grazie a tutti voi, grazie ai nostri amici che ci hanno seguito in diretta su animalnews.tv e arrivederci a tutti gli appuntamenti del gruppo Cinofilo Reggiano. www.gruppocinofiloreggiano.it Grazie a tutti.